Nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A, Zalewski commette un errore in mezzo al campo, in disimpegno sbaglia un passaggio che consegna la sfera all'attaccante del Verona che si invola verso la porta giallorossa. Svilar si accorge subito dell'errore del suo compagno di squadra e cerca di rimediare. L'estremo difensore esce dall'aria piccola nel tentativo di chiudere lo specchio all'attaccante del Verona che però è freddo e lo supera con un tocco morbido. Sfortunato Zalewski che prima di commettere l'errore che ha dato il via al contropiede del Verona si era vista annullare anche un gol. La Roma a testa bassa ha cercato subito di riportare il risultato in parità. Qualche minuto più tardi Sule ha dato un assaggio della sua classe. L'attaccante giallorosso è riuscito infatti a trovare il gol del pareggio siglando così la sua prima rete con la maglia della Roma. Qualche minuto più tardi però il Verona è riuscito a trovare il gol del 2-1 prima di venire riacciuffata dal gol di Dovig che ha riportato nuovamente i risultati in parità. A pochi minuti dal triplice fischio finale il Verona è passato nuovamente in vantaggio con una pennellata di Arrui che ha di fatto chiuso la partita. Il match Verona-Roma si è concluso 3-2.